Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui mi trovo con un grandissimo, lui è il mio super meccanico di fiducia e ve lo consiglio anche a voi. Ciao Enzo, dove ti trovano tutti quanti coloro che vogliono vivere? A via Guardapasso 16B, autoficina per l'Enzo e sto con Manu è il mio figlio. Ecco qua, perciò non mancate, andatelo a trovare quando ne avete necessità, speriamo il meno possibile, però tante volte accade, anche la manutenzione e tantissime altre cose, che consigli possiamo dare? Tutto si sta da piedi per vengare a soccorre. Ecco, ricordiamolo ad Aprilia e Tecla? Autoficina, Tecla Enzo, via Guardapasso 16B. Perfetto, io ti ringrazio, mandiamo un saluto a tutti i tuoi clienti e a tutti i tuoi fan. Ciao, ciao, ciao. Ecco, allora io ho una sorpresa per te perché te la meriti, questa è meritatissima, la manina del salutatore, così salutiamo tutti quanti, ciao.